Mi chiamo Paolo Pedrotti e sono il direttore di una struttura protetta per anziani. Ci siamo fidati a prima posizione che ci ha rifatto il sito per cui ce l'ha creato veramente con un'eccellenza soprattutto di visibilità. Non pensavo avesse così grande successo anche perché il nostro prodotto è un prodotto estremamente di nicchiano. Però invece abbiamo visto che con questa iniziativa di prima posizione, Piper Click, ci ha messi nelle prime posizioni. E la cosa più interessante che hanno studiato per nostro conto le parole è andare a cercare. Per cui struttura per anziani siamo nelle prime posizioni ed ecco perché abbiamo questi risultati eccellenti. Per cui continuiamo in questa formula. La consiglio perché noi abbiamo avuto risultati eccellenti, insperati, perché coerentemente lo devo dire, però eccellenti. A novembre non avevamo nessun ospite, ad agosto abbiamo 40 ospiti. In questo momento ci sono 12 ospiti fissi. Calcolando che il nostro full è 50 persone, siamo già al 70%. Riceviamo dalle 5 alle 10 chiamate giornaliere. Praticamente da marzo che abbiamo iniziato abbiamo decuplicato i contatti sia telefonici sia di presenza. E questo per noi è un risultato eccellente. Grazie a tutti.